Dottoressa Fatarella, Save the Children Italia alle scotte per una collaborazione con la psichiatria dell'Azienda Ospedale Universitaria Senese. Come nasce questa collaborazione? Nasce da un interesse molto bello e molto forte della parte della psichiatria alle attività di sostegno per Save the Children e quindi una donazione iniziale significativa che vede un primo passo verso una collaborazione che vogliamo però più strutturare proprio nell'ambito della salute mentale che oggi è uno dei temi principali che riguardano proprio il mondo dell'infanzia. Quali sono le principali attività di Save the Children? Save the Children lavora in Italia da 25 anni, siamo molto attivi in tutto l'ambito internazionale soprattutto nei settori dell'emergenza, in questo momento in tutti i paesi in guerra ma anche in Italia dove ci occupiamo prevalentemente di lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Professor Fagiolini, la psichiatria senese ha sostegno dei bambini di Save the Children, anche di tutti i bambini e le bambine? Sì, per noi questo è assolutamente un piacere oltre che un dovere. Noi abbiamo visto un netto aumento dei bisogni di salute mentale per i bambini, per gli adolescenti, per i ragazzi in età giovane e adulta e abbiamo quindi fatto riferimento a un'associazione che per noi è un esempio che si occupa proprio di aiutare al massimo verso bisogni culturali, bisogni educativi, bisogni sociali ma anche bisogni di salute mentale esattamente i bambini, gli adolescenti e i giovani. Quindi per noi è stato naturale rivolgersi a questa associazione verso la quale abbiamo sempre espresso gratitudine e adesso dobbiamo esprimerla ancora di più grazie all'opportunità di poter collaborare per aiutarli ad aiutare al meglio queste persone anche per quanto riguarda i bisogni di salute mentale.